Sì, 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 ma mi hai ascoltato prima? Sì, sì, allora, numero uno. Di settembre, quella... Me ne andai. Me ne andai. Il fuoco di un cammino non è caldo come il sole del mattino. Forse l'ha già detto qualcun altro, però... Però lo diciamo anche noi. Devo parlare del film, devo parlare del film. No, anche della tua interpretazione, insomma, di come ti sei trovato. Vuol dire, ho avuto difficoltà a lavorare con dei dilettanti assoluti, diciamo, al mio fianco. È stato molto difficile, obiettivamente è stato molto difficile, perché chiaramente il livello, poi lo vedrete nel film, c'è questo disequilibrio tra questo talento enorme che ho io rispetto ai miei colleghi di lavoro. Ma, insomma, d'altra parte bisogna fare buon viso a cattivo gioco e comunque mi sono adattato alla situazione. Insomma, diciamo che assomiglierà molto, dal punto di vista recitativo, la carica dei 101, con 100 cani che hanno recitato e io sono l'uno che recita decentemente, ecco. Per il resto, sì, sono bravi ragazzi, ma insomma, voglio dire, meglio che vanno a lavorare! Ecco, meglio che vanno a lavorare, a lavorare. No, comunque sono contento, dai, sono fatto una bella esperienza. Sono felice di quello che ho fatto, di quello che abbiamo fatto, del lavoro di equip fatto insieme. È stata un'esperienza importante, a volte anche faticosa, ma c'è chi è faticato molto più di me, per cui non è il caso di lamentarsi. Ed è stata un'esperienza bella, che spero che si ripeta, magari in tempi giusti, come sarà il momento, e che ho fatto molto volentieri. E, ecco, da quel punto di vista di, questa è l'unica vera, vera cosa che, l'unica cosa importante, ripeto, certo è uno spray, insomma, questo, diciamo questa specie di, voglio dire, di Robert Redford in mezzo a sti cani qua. Ricordiamo anche che i cani, i cani, cagano, violini. C'erano dei cani che cagavano violini in continuazione. Ed è stato, non è stato facile, insomma, abbiamo avuto delle difficoltà, perché sti violini che ti prendono sulle testa, erano facili, hai capito? Però, comunque, no, sono stati tutti abbastanza partecipativi, ci hanno fatti coinvolgere bene, abbiamo sopportato il caldo, certe situazioni... Avete sopportato il regista... Abbiamo sopportato il regista, ma insomma, anche lui ha sopportato noi, c'è stato un equilibrio, un dare e un avere, e per il resto, insomma, si è fatto una bella esperienza, nel quale, insomma, chiaramente, poi, voglio dire, si vede questa esplosione di talento verso l'alto, questa specie di nuvola che aleggia nel cielo, e queste personcine qua che si muovono, come possono, che sono i miei colleghi, ecco, questa è la verità, voglio bene a tutti, insomma... Saluta mamma a casa... Saluto mamma a casa... No, mamma a casa... Mamma a casa... Saluto una mamma a caso... Saluto una mamma a caso... Forse ci guarderanno le mamme, quindi... Saluta... Ciao mamma a caso... Una mamma così, magari anche una mamma non mia... Ciao... Sì, scusi... È che sono emozionato... Scusi... Capisco... Ma mi dica, per qual motivo è qui? È per lavoro, suppongo... Sì, sì, sì... Bene... In quali altri posti...